La legge di bidancio è iniqua e anziché risolvere i conflitti nel mondo del lavoro li crea. No alla finanziaria è di più di uno slogan per il sindacato Willi. Il 16 dicembre ci sarà una mobilitazione regionale davanti alla prefettura di Pescara. Tema centrale è lo sblocco delle pensioni ma anche la creazione di una posizione previdenziale per i giovani. Noi chiedevamo una riforma strutturale del sistema previdenziale in Italia che partisse proprio dalla necessità di creare una pensione di garanzia per le giovani generazioni. Tutti sappiamo che l'ingresso nel mondo del lavoro avviene sempre più tardi e il sistema pensionistico che le giovani generazioni troveranno è un sistema pensionistico molto molto debole. I sindacati in piazza anche per la contrattazione collettiva. Il momento in cui il governo in questa finanziaria prevede un ampliamento dei voucher e cioè la precarizzazione del rapporto di lavoro. Il voucher è un esempio eclatante della precarizzazione del mondo del lavoro. Significa rinnegare tutto un sistema di contrattazione collettiva nazionale di lavoro che tutela le lavoratrici, i lavoratori e soprattutto quei lavoratori più deboli che sono quelli stagionali perché i voucher vanno a colpire esattamente lì. La UIL non lascia indietro il tema fiscale, bisogna battere il cuneo di 5 punti e soprattutto no alla flat tax. Sì, se noi pensiamo che i lavoratori autonomi che hanno un fatturato fino a 85 mila euro avranno la tassa piatta quindi al 15%, mentre un lavoratore dipendente che ha un reddito tra i 25, 28 e i 30 mila euro paga il 32%, io credo che se non si fa una riforma complessiva del sistema fiscale è chiaro che diventa iniqua. Alcuni li tratti in un modo, altri, molti altri li tratti in un altro. Non ci sembra questo il modo per consentire a tutti di poter guadagnare il giusto ma soprattutto di poter spendere il giusto. Non ci dimentichiamo che l'85% delle produzioni che vengono fatte in Italia, dei prodotti, si vendono in Italia. Se non gli diamo la capacità di poter spendere i nostri salari è un cane che si morde la coda. Le fasce deboli al centro della manifestazione ma anche l'ambiente lamenta la mancata attenzione agli obiettivi di transizione ecologica e poi restano i temi caldi, assenza di risorse da dedicare alle scuole, alla ricerca, alla sanità e al mezzogiorno.